Un caro saluto a tutti, mi accingo a leggere la prima storia del mondo piccolo di Giovannino Guareschi. Io abitavo al boscaccio nella bassa con mio padre, mia madre e i miei undici fratelli. Io, che ero il più vecchio, toccavo appena i dodici anni e Cico, che era il più giovane, toccava appena i due. Mia madre mi consegnava ogni mattina una cesta di pane, un sacchetto di mele o di castagne dolci. Mio padre ci metteva in riga nell'aia e ci faceva dire ad alta voce il pater noster. Poi andavamo con Dio e tornavamo al tramonto. I nostri campi non finivano mai e avremmo potuto correre anche una giornata intera senza sconfinare. Mio padre non avrebbe avuto neppure mezza parola, anche se noi gli avessimo calpestato tre intere biolche di frumento in germoglio o se gli avessimo diventato un filare di viti. Eppure noi sconfinavamo sempre e ci davamo parecchio da fare. Anche Cico, che aveva due anni appena e aveva la bocca piccolina e rossa e gli occhi grandi, con lunghe ciglia e i ricciolini sulla fronte come un angioletto, non si faceva certamente scappare un papero quando gli arrivava a tiro. Poi ogni mattina appena partiti noi venivano alla fattoria delle vecchie con sporte piene di paperi, di gallinelle, di pulcini assassinati e mia madre per ogni capo morto dava un capo vivo. Noi avevamo mille galline che razzolavano per i nostri campi, ma quando si voleva mettere qualche pollo a bollire nella pentola bisognava comperarlo. Mia madre scuoteva il capo e continuava a cambiare paperi vivi con paperi morti. Mio padre faceva la faccia scura, si arricciava i lunghi baffi e interrogava brusco le donnette per sapere se si ricordavano chi dei dodici era stato a fare il colpo. Quando qualcuno gli diceva che era stato Cico, il più piccolino, mio padre si faceva raccontare per tre o quattro volte la storia e come aveva fatto a lanciare il sasso e se era un sasso grosso o se aveva colpito il papero al primo colpo. Queste cose le ho saputo tanto tempo dopo. Allora non ci si pensava. Ricordo che una volta mentre io ho lasciato Cico contro un papero che passeggiava come uno stupido in mezzo ad un praticello spellacchiato, stavo con gli altri dieci appostato dietro un cespuglione, vidi mio padre a venti passi di distanza che fumava la pipa all'ombra di una grossa quercia. Quando Cico ebbe spacciato il papero mio padre se ne andò tranquillamente con le mani in tasca e io e i miei fratelli ringraziamo il buon Dio. Non si è accorto di niente, disse io sottovoce ai ragazzi, ma allora io non potevo capire che mio padre ci aveva pedinati per tutta la mattinata, nascondendosi come un ladro pur di riuscire a vedere come Cico ammazzava i paperi. Ma io sto uscendo dal seminato, questo è il difetto di chi ha troppi ricordi. Io devo dirvi che il boscaccio era un paese dove non moriva mai nessuno per via di quell'aria straordinaria che vi si respirava. Al boscaccio sembrava quindi impossibile che un bambino di due anni potesse ammalarsi. Invece Cico si ammalò sul serio. Una sera, mentre stavamo per tornare a casa, Cico si sdraiò improvvisamente per terra e cominciò a piangere. Poi smise di piangere e si addormentò. Non si voleva svegliare, io l'ho preso in braccio. Cico scottava, sembrava pieno di fuoco. Allora noi tutti provammo una paura terribile. Il sole tramontava e il cielo era nero e rosso, le ombre lunghe. Abbandonammo Cico in mezzo all'erba e fuggimmo urlando e piangendo, come se qualcosa di terribile e di misterioso ci inseguisse. Cico dorme e scotta, Cico ha il fuoco dentro la testa, si inghiozzai. Io appena mi trovai davanti a mio padre. Mio padre, lo ricordo bene, staccò la doppietta dalla parete, la caricò, se la mise sotto braccio e ci seguì senza dir nulla. E noi camminavamo stretti attorno a lui e non avevamo più paura perché il nostro padre era capace di fulminare un leprotto a 80 metri di distanza. Cico era abbandonato in mezzo all'erba scura e con la sua lunga veste chiara e i suoi ricciolini sulla fronte sembrava un angelo del buon dio, cui si fosse guastato una luzza e che fosse caduto nel trifoglio. Al boscaccio non moreva mai nessuno e quando la gente seppe che Cico stava male tutti provarono un enorme sgomento. Anche nelle case si parlava sottovoce. Per il paese bazzicava un forestiero pericoloso e nessuno di notte si azzardava ad aprire una finestra per paura di vedere nell'aia imbiancata della luna a girarsi la vecchia vestita di nero e con la falce in mano. Mio padre mandò a prendere col calessino tre o quattro dottori famosi e tutti toccarono Cico e gli appoggiarono l'orecchio sulla schiena poi guardarono mio padre senza dir niente. Cico continuava a dormire e a scottare e il suo viso era diventato più bianco del lenzuolo. Mia madre piangeva in mezzo a noi e non voleva più mangiare. mio padre non si sedeva mai e continuava ad arricciarsi i baffi senza parlare. Il quarto giorno i tre ultimi dottori che erano arrivati insieme allargarono le braccia e dissero a mio padre non c'è che il buon Dio che possa salvare il vostro bambino. Ricordo che era mattina mio padre fece un cenno con la testa e noi lo seguimmo nell'aia poi con un fischio chiamò i famigli erano 50 fra uomini donne e bambini. Mio padre era alto magro e potente con lunghi baffi un grande cappello la giacca attillata e corta i calzoni stretti alla coscia e gli stivali alti. Da giovane mio padre era stato in America e vestiva all'americana. Faceva paura quando si piantava a gambe larghe davanti a qualcuno. Mio padre si piantò a gambe larghe davanti ai famigli e disse soltanto il buon Dio può salvare Cico. In ginocchio bisogna pregare il buon Dio di salvare Cico. Tutti ci inginocchiamo e incominciamo a pregare ad alta voce il buon Dio. Le donne dicevano a turno delle cose e noi e gli uomini rispondavamo amen. Mio padre rimase a braccia concerte fermo come una statua davanti a noi fino alle sette di sera e tutti pregavano perché avevano paura di mio padre e perché volevano bene a Cico. Alle sette di sera mentre il sole cominciava a tramontare venne una donna a chiamare mio padre. Lo seguì. I tre dottori erano seduti pallidi attorno al letto di Cico. Peggiora, disse il più anziano, non arriverà domani mattina. Mio padre non disse nulla ma sentì che la sua mano stringeva forte la mia. Uscimmo. Mio padre prese la doppietta, la caricò a palla, se la mise a tracolla, prese un grosso pacco, me lo consegnò. Andiamo, disse. Camminammo attraverso i campi. Il sole si era nascosto dietro l'ultima boscaglia. Scavalcammo il muretto di un giardino e bussammo a una porta. Il prete era solo in casa e stava mangiando al lume della lucerna. Mio padre entrò senza levarsi il cappello. Reverendo, disse mio padre, Cico sta male e soltanto il buon Dio può salvarlo. Oggi per dodici ore sessanta persone hanno pregato il buon Dio, ma Cico peggiora e non arriverà domani mattina. Il prete guardava mio padre con gli occhi sbarrati. Reverendo, continuò mio padre, tu soltanto puoi parlare al buon Dio e fagli capire come stanno le cose. Fagli capire che se Cico non guarisce, io gli butto all'aria tutto. In quel pacco ci sono cinque chili di dinamite da mina. Non resterà più in piedi un mattone di tutta la chiesa. Andiamo. Il prete non disse una parola, si avviò subito verso mio padre. Entrò in chiesa, si inginocchiò davanti all'altare, giunse le mani. Mio padre stava in mezzo alla chiesa, col fucile sotto braccio a gambe larghe, piantato come un macigno. Sull'altare ardeva una sola candela e tutto il resto era buio. Verso mezzanotte mio padre mi chiamò. Va a vedere come sta Cico e torna subito. Volai fra i campi, arrivai a casa col cuore in gola, poi tornai e correvo ancora più forte. Mio padre ancora lì fermo a gambe larghe col fucile sotto braccio e il prete pregava bocconi sui gradini dell'altare. Papà, ridai col mio ultimo fiato, Cico è migliorato. Il dottore ha detto che è fuori pericolo, il miracolo. Tutti ridono e sono contenti. Il prete si alzò, sudava, il suo viso era disfatto. Va bene, disse bruscamente mio padre. Poi mentre il prete guardava a bocca aperta si tolse dal taschino un biglietto da mille e li infilò nella cassetta delle lemosine. Io i piaceri li pago, disse mio padre. Buonasera. Mio papà non si vantò mai di questa faccenda, ma al boscaccio c'era ancora oggi qualche scomunicato il quale dice che quella volta Dio ebbe paura. Arrivederci al prossimo racconto. Grazie a tutti.